ti prego non entrare ma dai solo un momento vediamo un po che si ti guarda la nostra tiziana guarda sta chattando con qualcuno su un social network fatti gli affari tuoi e guarda quanti profili quanti link e guarda questo e poi c'è un altro sito cosa non ti sento bene dicevo che ho trovato delle conversazioni non lo so è sempre più ingarbugliata non ti sento bene dove sei non so non riesco a tornare più indietro aiuto si è perso nella rete aiuto